Vigilia di campionato per la Turris attesa dalla trasferta contro il Monterosi-Tuscia, partita che si giocherà sul neutro di Viterbo. I Corallini sono reduci da due pesanti K.O. in campionato contro Giuliano e Catanzaro, con otto gol subiti che hanno minato alcune certezze dopo un eccellente inizio di stagione che aveva proiettato la squadra di Padalino nelle primissime posizioni di classifica. In settimana però è arrivata la vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro il Gervison, ottenuta all'ultimo minuto e che ha consentito l'accesso al turno successivo dove ci sarà la sfida al partenio contro Lavellino. La squadra laziale invece arriva dall'ottimo pareggio ottenuto a Pescara, mentre in Coppa è arrivata la sconfitta in trasferta contro il Montevarchi. Fischio di inizio allo stadio Rocchi di Viterbo, previsto alle ore 12.30. Grazie.